Grazie a tutti per la presenza e ringraziamo i ragazzi di Norcia che ci hanno sempre accoggiato. Grazie a tutti, sono vincitrice dell'ultimo campionato regionale, allo speaker, so che il presidente non è pronomenico Gianni Paolo, questo è comunque un ringraziamento che ci avete onorato della vostra presenza al nostro secondo trofeo Gualdana di Pietro, questo è un ringraziamento a tutta la compagnia. Grazie, grazie mille, andiamo a restare sempre bene, ecco, è una parola ai maestri d'armi che non è ancora più. Grazie mille, bravi, basta anche così, basta, bravi, vieni, basta Marino, vieni, tasso, qualificate le tue mesci? Le mie mesci? Sì, basta. Prima di tutto veramente vorrei ringraziare Stefano per l'invito, per questa bella splendida giornata che ho passato qui, e allegramente con voi, queste sono cose che... Sì, basta. Allora, si dice chi... Sì, non diceva lui, non lo vuol dire. Non ne vuol dire, allora posso... Non lo posso, non lo fa a dire. Ok, mi piace. Allora, terzo... No, me li ricordo. Ah, bravo, vieni, vai. Terzo classificato della compagnia di Lucca, non so se lo conoscete di vista, è il vostro maestro d'armi... Con il vinteggio di 30. Ci sono arrivato. Secondo classificato della compagnia di Gualdo, sempre con 30, Andrea Vittorio. Che culo! Sicilis Mondi Sancto! Grazie a tutti.